Ho scoperto la mia passione per il motorsport intorno a 16 anni, quando ho fatto le mie prime gare sul kart e a seguito alcuni successi ho potuto competere in gare di livello nazionale e internazionale. Confrontandomi con piloti ho potuto iniziare anche intorno a 4 o 5 anni, dimostrando agli altri e al primis a me stesso come con passione, dedizione e impegno si può realizzare qualsiasi sogno. Una delle sfide più grandi è sempre stata quella di conciliare la mia carriera scolastica con quella sportiva. È stato possibile grazie a tanto impegno e tanta organizzazione, aiutato dal fatto che gli eventi motoristici si presentano per lo più nel periodo estivo, mentre a scuola per lo più a che fare con l'inverno. Il motorsport è sempre stato molto inclusivo, in quanto richiede di viaggiare molto e vi partecipano persone di diverse culture e nazionalità. Un obiettivo molto importante per questo tipo di sport è sempre stato anche la parità di genere, cercando di dare le stesse possibilità anche alle donne che praticano questo sport, creando categorie e anche campionati a loro dedicati.